Grazie a tutti. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi scepoli e disse, prendete e mangiatevi tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per l'uomo. Diciamo insieme, e il Signore Gesù si offre per noi. E il Signore Gesù si offre per noi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi scepoli e disse, prendete e mangiatevi tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per noi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. E il Signore Gesù si offre per noi. E il Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede. E il Signore Gesù si offre per noi. E il Signore Gesù si offre per noi. Il Signore Gesù si offre per noi. come nel mio cuore ora qui me sta nascendo amore dolce capire che non sono più sol a che son parte